Allora ragazzi intanto c'è questa cosa ridicola dell'inginocchiamento Siccome alcuni giocatori italiani non si sono inginocchiati Ma poi di fronte a che cosa bisogna inginocchiarsi o vada ai matti Perché uno si deve inginocchiare Ma di fronte a che cosa è passata una vita da quell'episodio in America dove è iniziata questa roba qua Ma io non mi inginocchio davanti a nessuno Ma lo sport che parla a milioni di persone ha una potenza simbolica enorme Io mi inginocchio solamente di fronte a una gran figa per gustare un certo nettare In altri casi non mi sono mai inginocchiato Non ci sono altri casi in cui mi possa inginocchiare Questo è l'unico momento di inginocchiamento della mia vita In altri casi non è che mi inginocchio Capisco che tu sei abituato all'inginocchiamento Tanto che hai dichiarato, e questo lo dico a Gottardi In una intervista al Quotidiano Libero Al Quotidiano Libero Fatto da uno dei tre direttori Che Berlusconi è uno statista Lo ha dichiarato Dopo averlo sbeffeggiato per anni E dopo averne detto in tutti i gol Ha detto che è uno statista Ora che non è più potente Quando era potente io ero il primo ad attaccarlo Ora che non è più potente Che me ne frega Non sono io quello che lavora Mediaset Non sono certo io Io so benissimo dove sono Non andresti Per ora no, sto benissimo dove sono Quindi chi se ne frega Però quello che voglio dire è Lo dico ora che non è più potente Ora che non è potente Posso riconoscere alcune cose fatte da Berlusconi Proprio perché non è più potente Proprio perché non è più potente Questo è il tema vero Porro sull'inginocchiamento vai Perché io potrò inginocchiarmi Nei confronti di quello che cazzo voglio Scusate la volgarità Potrò decidere qual è la mia battaglia culturale Sapete che cosa vorrei? Che domani quattro giocatori di baseball O quattro giocatori di tennis italiani Si inginocchino per Saman Va bene? Ha perfettamente ragione Porro Avanti tutta Zuppa di Porro sempre numero uno ragazzi Porro ha condotto la manifestazione della Lega sabato Ma non mi ha detto niente Ma qual è il problema? Porro è un bravissimo giornalista Venduto alla destra No Venduto Anche tu sei andato a pezzi Venduto mai Ha fatto la stessa cosa Vergogna Ma che si sappia È un giornalista dell'area del centro-destra E tu sei un giornalista dell'area di centro-sinistra Ma io sono dell'area di nessuno Come ho dichiarato molto bene Io sono progressista Dell'area del progressismo Dell'area radicale Liberale Libertaria Se sapessero davvero quello che pensi Dell'area liberale Libertaria Progressista Certo sì Sono antifascista Questo sicuro Sono antifascista È un crimine? Ma cosa cazzo vuol dire? Questo lo voglio dichiarare Certo Solo per i diritti civili È un crimine? Ma che c'entra? Sono progressista È un crimine? Cacciatemi Cacciatemi da qui Cacciatemi Ho la colpa di essere antifascista Cacciami da qua Ma figurati Cacciami ora E di che hai cacciato un antifascista Ma figurati Cacciami pure Io sono antifascista E anticomunista E anticomunista Tieni Una ragazzina di 18 anni Che grazie al padre La madre Il cugino Il fratello L'altro cugino E alla comunità pakistana Che vive in Italia Non in Minnesota Non in Dakota In Italia L'hanno strangolata E il corpo l'hanno ancora ritrovato Se ti vai inginocchiare Inginocchiti per quello che viene da queste parti Cosa vuol dire questo Ha ragione Borro La gente si dovrebbe inginocchiare Per quello che è successo in Italia In Italia Ci si inginocchia per una cosa Che è accaduta in Italia La distruzione del corpo Perché di questo si tratta Non so che cosa è successo L'uccisione molto probabile Di una ragazza Per motivi Legati alla religione islamica A un clan familiare Che utilizza l'islam Per dettare le leggi E questo è il punto fondamentale Utilizza Io pensavo Io pensavo che uno come Parenzo Che di solito è abituato a inginocchiarsi Di fronte ai potenti Si inginocchiasse come me Di fronte al corpo straziato Dalle ruote di un camion Di Abil Belakdim Che era un padre di due bambini Di 4 e 6 anni E' stato ucciso da un camionista Italiano Alessio Spaziano Che è uscito dal carcere di Novara Ed è ai domiciliari Allora io chiedo a tutti i camionisti L'ascolto Io chiedo a tutti i camionisti L'ascolto Cosa sarebbe successo Cosa avrebbero detto Se un marocchino Avesse ucciso Un camionista italiano E dopo 24 ore Fosse agli arresti domiciliari Io voglio sentire i camionisti moderati Chiedere scusa Perché c'è una roba Che ha ucciso Sì Perché quando succede con i terroristi Che cazzo vuol dire i camionisti moderati Quando succede con i terroristi Dicono Voglio sentire i musulmani moderati No Io voglio sentire i camionisti moderati Io non so cosa sia successo esattamente Alcuni dicono che non si è fermato Che è andato Un criminale Ma certo è un criminale Ho capito Tu non puoi non accorgerti Che hai travolto un uomo Ma perché te la prendi con i camionisti In fronte è un picchetto Perché io voglio che i camionisti Si dissociino Ma certo che si dissociano Ma che vuol dire certo È evidente Però Non ho sentito nessuno Io non ho sentito nessuno Ma non senti nessuno Perché non sei nessuno All'800 Ma per forza Non sei nessuno E non ti chiama nessuno All'800 È evidente Non ho sentito nessuno Voglio sentire i camionisti Voglio sentire i camionisti Porro 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 Ma perché devono chiedere scusa Per un atto criminale Fatto da uno Nei confronti di un sindacalista E allora collega E allora collega D'accordo Ma che cazzo vuol dire E allora Un po' di cordoglio Per questo padre di famiglia No Inginocchiati per quello che vuoi Ma io non posso pensare Che la dai Se non mi inginocchio Per Saman Se non mi inginocchio Per l'ultimo ergastro Mi devono per i coglioni È una roba Da passi Inginocchiatevi Fatevi Mettetevi anche come Del cazzo di serpenti Mettetevi là I sdraiati Mettetevi con il tappetino In campo Io non vi rompo le balle Fate quello che volete Ma non potete Baccare Di che ti sei inginocchiato È un fenomeno Di che ti sei inginocchiato Sapete a che cosa Si sono inginocchiati Al conformismo multiculturale Di cui non conoscono Una minchia Niente Niente Perché poi noi Dobbiamo sempre fare i fenomeni Black Lives Matter Ma che cazzo vuol dire per noi Che vuol dire La violenza della polizia americana Nei confronti della nostra Cosa vuol dire Cosa vuol dire Cosa vuol dire Ha ragione lui Non c'entra un cazzo Non c'entra nulla Le ginocchiazze Ma perché uno si deve inginocchiare È un gesto simbolico Per non far sentire Di pronta a cosa Per non far sentire Le persone sole Le manifestazioni A questo servono A far capire Che chi viene colpito Da un poliziotto Come è accaduto in America E poi muore Ma cosa c'entra Quel fatto simbolico E quel popolo Quella gente Non è sola Questo è il tema Ma perché Una manifestazione Ha questo aspetto Di coralità Proprio perché manda Messaggi chiarissimi Le manifestazioni A questo servono Sentite Ancora Porro Per rivendicare i diritti Sentite ancora Porro Ma Porro Porro era liberale Una volta Io non mi inginocchiavo Non mi inginocchio Io non penso Che sia un mio problema Il poliziotto americano Vi è chiaro? Il poliziotto americano Che ti spara E ti strangola Non è un cazzo di problema Del poliziotto italiano Capito? Il poliziotto italiano E il carabiniero italiano Semmai indietreggiano Rispetto ai fascinolosi I poliziotti E i carabinieri italiani In quest'ora Vengono malmenati Nelle piazze Da orde di ragazzini Che sono Tre mesi Sei mesi Un anno Che non vedono l'ora Di uscire Chiaro? Allora Questo ovviamente Non c'entra Nulla Con la vicenda Dell'inginocchiamento Di questa moda Dell'inginocchiamento Per le violenze Della polizia americana Nei confronti dei neri C'è però una questione Una questione fondamentale In queste ore Qualcuno sta criticando Qualcuno sta criticando Non solo sul web Anche qualche opinionista Sta criticando L'atteggiamento della polizia Nei confronti di quell'immigrato Clandestino Anzi pregiudicato Che col coltello Fuori dalla questura Credo di Roma È stato colpito Della stazione Della stazione Scusa bravo Della stazione È stato colpito Da un colpo di pistola Alla coscia Dalla coscia Era armato di coltello Dieci poliziotti intorno Qualcuno ha osato dire Ma qualcuno chi? Ma non è vero Erano tanti Ma è un amaro Si poteva evitare Si poteva evitare Cosa che non c'è stata Nessuna persona politica Di sinistra Ha detto che il poliziotto Ha fatto male Nessuno Ma il giornalismo Delle destre Libero Il giornale Cruciani E' pieno di gente Ma chi? Ma di gente chi? Ma è stato messo sotto inchiesta Il poliziotto Ma quello non c'entra C'è un'inchiesta Ma la polizia Non è di sinistra Quello per forza No Quello per forza La polizia Non è la sinistra Non è la sinistra Che l'ha messo sotto inchiesta Poi ti faccio i nomi Poi ti faccio i nomi Poi ti faccio i nomi Perché il cotardo Non capisce una svega Il vero problema Sulle strade Non sono gli autotrasportatori Sono dei lavoratori Il 99% Deve sta il niente Rispetto alle regole Alla virgola Sono bravissimi Ti fanno incazzare Ma sono bravi Il vero problema Quelli da sterminare Quelli da levare Da Uccidere con lancia fiamme Sono I furgonati Telonati E caravan Ragazzi Questi bisognerebbe Andare in giro La mitagliatrice Piazzata sul bruscotto E spianarli tutti Vanno a 200 all'ora Nell'abitato Sorpassano curva Quando è furia In autostrada Vanno a 30 all'ora Sorpassano Senza mettere la freccia E poi li vedi sempre In quattro Nel sedile davanti Appicciati Con delle facce Da caleotti Avanzi di galera Che ti hanno voglia Di sparagli Anche se non ti sono venuti A rubare a casa Aggiungo Che il peggio Del peggio Del peggio Sono i furgoni Con il cassone Scarrabile Questi sono I muratori I muratori Con il cassone Ragazzi Ammazzarli Sulla fiducia Gottardo Non ci hai capito Una sega Cates Ha ragione Ha ragione Gottardo I camionisti Si credono I padroni Della strada Guarda te Se io Su una strada Con linea tratteggiata Voglio sorpassare Perché non c'è Un cazzo di nessuno Un cazzo di camionista Con su un camion Di merda Si mette in mezzo Perché lui ha deciso Che non devo sorpassare Ma vaffanculo Continuano queste guerre interne Scatenate da Gottardo Tra camionisti Autotrasportatori Gente che è a favore di Gottardo Gente che lo vorrebbe ammazzare Minacce di morte Tutta povera gente Perché povera gente Ricevo su Instagram Ricevo su Instagram Diecine di video Da tutte le autostrade A due corsie Con i camion in parallelo Anche nei tunnel Nelle gallerie Dove non si può Sorpassare Stai facendo una campagna Una campagna Contro una delle categorie Contro una delle categorie Più Come dire Più Importanti Importanti in Italia Nei prossimi mesi In Italia Morirà più gente Di incidenti stradali A volte Causati anche dai camion No a volte Hai detto sempre Provocati dai camion Hai detto tu Hai sempre detto così A volte A volte A volte Sono capace di dirlo pure io Che vuol dire A volte Certo che i camion Come le automobili Provocano incidenti Che cazzo vuol dire Hai detto una volta Adesso Te la stai facendo sotto Che i camion Sono I camion Sono Sono i principali responsabili Degli incidenti stradali Non dire cazzate Che fai Te la fai sotto adesso Un camionista Che sulla variante Bologna-Firenze Supera In galleria È un delinquente Posso dirla Sta roba qua E lo fanno sempre Cazzo Sempre Allora Però è il tumulto Degli straccioni Dei poveracci Lasciami spiegare Tu sei la dimostrazione Che si può essere Dei miserabili Anche venendo da una famiglia Per bene Piena di soldi Si può essere Dei miserabili Meschili Il tumulto Dei cionpi Allora Della serie ragazzi Creatività napoletana Qualcuna Qualcuno Davide da Palermo Dai avanti Davide A te A tutti gli ascoltatori Io sono un camionaro Si Io faccio Dalle sette A 800 giorni A giorno Molto bene Rispetto Rispetto I divieti Di sorpasso Giusto Seconda cosa Seconda cosa Giusto Noi siamo Una categoria importante Il fatto di Novarà Molto importante Molto importante Che chi ne dica Gottardo Che chi ne dica Gottardo Che siete l'ultima Che sei l'ultima L'ultima Come dire L'ultima Dobbiamo aspettare Gli organi competenti Di polizia Che facciano Luce sulla dinamica Poi lui non deve mettere Luce sulla dinamica Luce sulla dinamica Perché tu prendi sotto Il corpo di un uomo Lo trascini per metri Lo trascini per metri Tu un uomo Dopo che l'hai travolto Non te ne accorgi Ma prima bisogna Guardare la dinamica Ma è possibile Ma scusami Ma scusami Scusami Rispondi a questa domanda Rispondi a questa domanda Calma 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 Ma è possibile Ma è possibile Cinque volte tanto le macchine Quindi No ma scusami Rimaniamo sul fatto di Novarà Rimaniamo sul fatto di Novarà Allora calma 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 Cioè un uomo non è un gatto Un uomo non è un gatto Se tu Se tu travolgi un uomo Te ne accorgerai o no Coglione che non c'è altro Mi dispiace Però scusami 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 Amico mio Amico mio Amico mio Amico mio Amico mio Camionista Ma non è un gatto Non è un gatto Non è un gatto quel sindacalista lì E' zitto un attimo Il sindacalista Il sindacalista Ucciso Bisogna dire che poi a un certo punto Ha chiamato Ha chiamato Il padrino poliziotto L'amico poliziotto E ha detto Ho combinato un casino È successo Un casino Il camionista Il camionista Per cui Qualche Diciamo Qualche sospetto Ma ho capito Quello che non c'è Che luce Ma che luce Cazzo Che luce Aveva due figli Aveva due figli A te non te ne frega un cazzo A te non te ne frega un cazzo Della morte di quell'uomo Come fai a dirlo Vuoi difendere solo il camionista Ma vai a fare un culo Ma come cazzo ti permetti Come ti permetti Ma come ti permetti Come ti permetti Ma come ti permetti Deficiente Coglione che non si ha E anche su questo Ma se l'udizia Bisogna vedere la dinamica Bisogna guardare Bisogna vedere bene Fa luce sull'accaduto E poi Fa luce cosa Ma tu sei talmente Coglione Ma scusami Tu sei talmente coglione Che prendi sotto Una persona La trascini per metri E poi chiami Il padrino poliziato Dicendo ho fatto un casino Ti dovevi fermare Lo hanno scarcerato Lo hanno scarcerato A me A me fa impazzire Sta roba qua Non si può scarcerare Uno così Non si può Ma che sei il gitto Ma che sei Hanno scarcerato Quelli del mostrarone Deficiente che non ce l'ha Ma scusami Non si può scarcerare Non si può scarcerare Non si può scarcerare Non si può scarcerare Ma che cazzo sei Ma chi sei La boccassini adesso Che dici anche Che non si può scarcerare Chi sei Di Pietro Che cosa sei Il cup Il jeep L'ognomo Che è incredibile Incredibile Si mette Parla di quello che sai Cioè di nulla Coglione L'Italia Una repubblica fondata sul lavoro Ma scusami Ragioniamo un attimo Io voglio ragionare Nano di merda Nano è l'altro Voglio ragionare Voglio ragionare Nano di merda Perché te la sei presa con Parenzo Perché te la sei presa con Parenzo Mi piace per la vita È un incidente Ha fatto male Ha pagliato Deve pagare Ma tu non puoi mettere la sentenza Su tutta la categoria Non esiste Davide Davide Perché te la sei presa con Parenzo Prima Non ho capito Perché Parenzo In un post di Facebook Ha detto che Il signor Cuccinelli Quello di Bologna È un grande imprenditore Che lui nella sua azienda Fa vaccinare I suoi lavoratori Sì Oppure Oppure li mette Oppure li mette No Devi leggere Devi leggere tutto Però Oppure li mette A casa Pagati No però scusami Forse non ti è arrivato Il sangue Non ti è arrivato L'ossigeno al cervello Hai letto solo La prima frase Sì Ma hai letto solo La prima frase Però Però hai letto Solo la prima frase No Ho letto tutto No La prima frase Hai letto Perché lui ha detto Chi non si vaccina Lo metto a casa Lo metto a casa Pagato No però forse Non hai capito Forse non hai capito Mi dispiace Sì Mi dispiace Che tu non capisca Ma non Non mi stupisce Che tu non capisca Ma non c'è La sinistra Ma non c'è La sinistra Che voto Lega In Beloni Nelle corna a te E a tutta la sinistra Oh Questo è un bel messaggio Davide Fermo un attimo Allora Cuccinelli ha detto Sì però mettiti bene Questo telepro Vedi che adesso si sente bene Cuccinelli ha detto Cuccinelli Cuccinelli ha detto Cuccinelli ha detto In azienda Solo sei immunizzati E poi Penso all'aspettativa Per chi dirà di no Aspetta Aspettativa pagata Vabbè grazie al cazzo No no L'aspettativa non è pagata In genere L'aspettativa non è pagata In genere Allora posso dire Cuccinelli che conosco L'aspettativa in genere Non è pagata Non mi interessa Tu non la vuoi Lui È un vile ricattatore Io non uso questa Aspetta Fermo un attimo Davide Vergognatevi È il nuovo Olivetti È il nuovo Olivetti Davide posso dirti una cosa È il nuovo Olivetti Io non dico Vile ricattatore Naturalmente Ma dico Dico che è una cosa Razzista Dico che è una cosa Razzista È una cosa Che non si può fare Che discrimina Chi non si è vaccinato Ed è una vergogna Che un'azienda Così importante Io lo conosco benissimo Cuccinelli Io è una vergogna Non ho paura a dirlo Perché non me ne frega un cazzo Non ho amici Allora no Vabbè non diciamo Non diciamo cazzate Non diciamo cazzate No è uno Che ha fatto una scelta Che Basta Basta Aspettativa pagata Basta Basta Aspettativa pagata Basta un ricorso Di un lavoratore A questa scelta Se la rimangeranno Assolutamente no Basta un ricorso Il chino ha spiegato No non è vero Non è vero Non è vero C'è una legge Che prevede Che il datore Di lavoro Può decidere Per la sicurezza E la sanità Che tu sei vaccinato E quindi Lo può imporre E un deficiente O le capote Dillo alla legge Dillo alla legge Chiamalo col nome suo Dillo alla legge Chiamalo col nome suo Farmaco sperimentale Hai capito? Allora Lui ha 1174 dipendenti Ci sarà qualcuno Che non vorrà farlo E allora dovrò Per forza Decidere di affrontare La questione Non ho licenziato Nessuno In tutti questi mesi Di pandemia Non voglio Obbligare nessuno A vaccinarsi Aspetta Pensavo Un'aspettativa Rimunerata Per sei mesi Per i non vaccinati Per sei mesi E dopo sei mesi Che succede? Non esiste L'aspettativa L'aspettativa In genere Non è pagata In questo caso È addirittura pagata Sei mesi E dopo che succede? Vai a dirlo Al giudice del lavoro Che quello Vai a dirlo Al giudice del lavoro L'aspettativa E glielo succede Al lavoratore Ecco cosa faccio Fermi tutti Ciao 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 Cruciani Vai a fare in culo Il reddito di cittadinanza L'ho mantenuto Altrimenti finisco In mezzo a una strada Chi se ne frega Io non ho niente E qui lavoro Non ce n'è Ti parlo dal Molise Una regionetta Dimenticata da tutti Per mia fortuna Non sono molisana Però purtroppo Scivivo Poi mi cambi tu Stronzo Scusa Questa cosa si chiama Ermelinda Che vorrei chiamare Vorrei che chiamasse lei Eccetera Questa campa Con il reddito di cittadinanza A me non me ne frega nulla Va abolito Secondo me Il reddito di cittadinanza Trovati un lavoro Trovati un lavoro Va abolito anche il Molise Oltre che il reddito di cittadinanza Molise è vero Molise è vero Io invito i molisani A non ascoltare più Questa tradizione Molise va cancellato Siccome è regione Ma che cazzo Che cazzo di regione È il Molise Dai Cazzo Cazzo Stupida Consiglieri regionali C'è delle province Che fanno meno Del mio quartiere Di abitanti Dai Ma che roba è Ha ragione Molise c'ha il mare meraviglioso Ma cosa dite Ha ragione Molise c'ha il mare meraviglioso Ma di chi c'è È un posto bellissimo È un posto stupendo È un posto bellissimo Ma è una burocratia Ma cosa dite Non esiste Non esiste come regione Dai Ha ragione Ma cosa dite Ha ragione Hanno un mare pazzesco Aio Miliardi di euro buttati via Aspetta Miliardi di euro buttati via C'è ancora questa ermelinda Aspetta Aspetta Io fossi il presidente del Molise Quale l'erei Che chiami Sei proprio uno schifosissimo rappresentante Della radio dove lavori Radio 24 La radio dei padroni E allora Poi mi campate voi No Io non vado a fare l'abbalante Manco morta Vedi Gli operatori sociosanitari Devono andare a fare Questo lavoro La vedi Certo Stronzo Vai a fare culo Senti E' meglio non fare un cazzo La badante La badante no E invece Redi di cittadinanza Si C'è meglio stare sul divano Non fare una stramazza di nulla Piuttosto che fare la badante Ti rendi conto Ti rendi conto Dimmi se non ho ragione a dire Che Redi di cittadinanza Va abolito Stavo scrivendo a un ascoltatore Di cui non posso fare il nome Perché è un ascoltatore Piuttosto famoso Che dice di mandare a fare Il culo Contardo Ma sei il coglione Dillo Sei il coglione che chiami Non posso dire chi è Non posso dire Tutta gente senza coglioni Non è che non si può Non vuole sapere Il reddito di cittadinanza In parte Ha salvato migliaia di persone Ma andate a fare in culo Migliaia di persone Migliaia di persone Ti sei inginocchiato Anche tutta Quando sei arreato Con i Five Stars Ti sei inginocchiato Da esplendere il PD Mi risulta che il tuo cognato Si sia presentato Non è del PD 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 Intanto si è presentato Ci ha messo la faccia 2,5% Cioè nulla Quanti voti ha preso Quanti voti ha preso Migliaia di voti Se mi presento io Prendo più voti Prendo più voti Se mi presento io Se tutti presenti Gli elettori del PD Si suicidano Ma ha fatto il 2,5% Si suicidano Si suicidano Si suicidano Si perché non è 2,5% davvero Non è di un sindaco 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 Questo può essere Questo può essere Incredibile ragazzi Occhi ma qualificato Sentiamo Spadalino però Sentiamo Spadalino Perché con Saman La sinistra Non ha fatto manifestazioni Vorrei chiedere A partire Da Enrico Letta Segretario del PD A finire All'estrema sinistra Come mai Per l'uccisione Di quella povera Disgraziata Quella ragazza Pakistana La Saman Abbas Non hanno Inscenato Tante manifestazioni Di protesta Ebbene Un po' Un po' Su questa ragione Devo dire la verità Spadalino Ogni tanto ha ragione Devo dare ragione a Spadalino Lo so che è uno sforzo Lo so pareggio che tu Scrive giustamente Cristiano Malacrino Ora capisco il perché Della presenza di Gottardo È pura beneficenza Lui svantaggiato È uno di quelli a cui Gesù Vuole più bene Ottimo In realtà In realtà adesso Lui svantaggiato Che ha fatto dei film Che non ha visto Neanche i parenti Che io sono qui Che io sono qui Perché probabilmente Magari un po' di radio Perché è svantaggiato Svantaggiato Che tossici Svantaggiato Giù Parli sopra le persone Svantaggiato Spadalino vai Quando invece Non hanno alcun interesse A svegliare il can che dorme Come in questo caso Con la ragazza pakistana Perché verrebbe fuori Il maltrattamento della donna Nella cultura islamica Dai dai Il Corano parla chiaro Ecco perché io metto le mani avanti Da anni Ecco perché Io Vi lamento che il mio paese Sta rischiando Una deriva Islamica Ci faranno fare tutti Una brutta fine Però non è all'altezza di Donato Nelle sue tirate L'unico che stava facendo Una brutta fine Per la verità Si chiama Poco tempo fa Si chiama Non era il mondo islamico Ma si chiama Spadalino Perché ha negato il virus E un altro Che ha fatto una brutta fine A Novara Si chiamava Abil Belakdim E se ne curano tutti quanti Perché non era italiano Capisce Se l'autista del camion Fosse stato marocchino E il sindacalista italiano Noi avremmo avuto Centinaia di camionisti Che chiamavano Con la bava alla bocca A questa trasmissione Se fosse stato un sindacalista Se fosse stato un sindacalista dei camion Ucciso da un marocchino Avremmo avuto i camionisti Con la bava alla bocca Questi non hanno neanche il coraggio Di esprimere il proprio cordoglio Alla vedova di due bambini Di 4 e 6 anni È una cosa vergognosa Ma cosa vergognosa Ma è un episodio È tutto vergognoso Di un signore Come è un episodio È un episodio Come è un episodio Questo ha trascinato per metri Il corpo di un uomo Ma per carità E non si è neanche fermato Ma stai criminalizzando una categoria Posso dire che è un delinquente Posso dire che è un delinquente Certo A parte che non sappiamo ancora Quello che è successo Non è tirare sotto un gatto Lo sapeva anche lui Lo sapeva anche lui Ha chiamato il padrino poliziotto Lo sapeva anche lui Ha chiamato il padrino poliziotto Ha detto Ho fatto un disastro Ho fatto un disastro Non vuol dire Ho preso sotto un gatto Ho fatto un disastro Vuoi criminalizzare i camionisti Stai criminalizzando i camionisti Io voglio sentire I camionisti Che si indignano con me Perché sono sicuro Che non sono tutti uguali Devono dirlo però Devono dirlo Sarebbe come dire Che tutti i coniattori radiofonici Sono delle teste di cazzo Invece una sola Cioè Gottardo Non è che tutti Quindi i camionisti Quelli bassi Basterebbe a distinguere Cioè tutti i coniattori No Quelli bassi Tendono ad esserlo Uno Roberto da Torino E poi forse da questa radio Fanno degli share di merda Tra le altre cose Sì Ancora non è iniziata La tradizione Sì Sì No Invidia Mi suicido Giù Roberto da Torino Sì 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 Dimmi Allora ragazzi Intanto Sommerso dalle critiche E Smentito dall'Avis Montesano non molla Vai Sono stato mal interpretato Amici E questo mi dispiace Beh insomma Per me il lavoro che svolge l'Avis È un lavoro incomiabile Il mio non era assolutamente un attacco Verso chi svolge questa opera meritoria Ma nessuno Ma invece sembrerebbe Dai concitati messaggi Che ricevo Contro di me Insomma Come in altre dirette fatte Ho divulgato notizie Che si possono trovare sulla rete Ma che vuol dire? Che trapelano Che circolano Ma che Ho dato voce ad una notizia No Una strana Non stai a indagare Io sono solo un tramite Ritenevo giusto Che una notizia così curiosa Dovessi comunicarla Tra l'altro Io la notizia Ve l'ho riproposta Con il condizionale Che è importante Io ho detto Parrebbe Sembrerebbe Ho parlato con un amico Che conosce una persona Non lo so se è il lattaio Se è il fornitore Che pare che Ha ventilato La possibilità di queste cose Ma insomma Ammesso e non concesso Io la notizia L'ho data col beneficio Del dubbio Che accompagna Ogni notizia Volete verificare? Verificate Io non sono un giornalista D'inchiesta No 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 Però posso dire una cosa Cioè Oggettivamente è così Cioè lui ha pescato Una roba che circola Su web E l'ha buttata lì È Montesano Non è che sia Ma i virologi Anche loro si sono sbagliati Anche i virologi Si sono sbagliati Durante la pandemia No Vedi Ma come fai a difenderlo? Parrebbe Che ci sia un attore bollito Romano Che spara puttanate Oddio Non gli do neanche Il beneficio del dubbio Mi sa che è proprio bollito Posso dirvi una cosa Lascia perdere l'attore bollito E tutto quello che volete Ma come si fa a sostenere Una roba del genere Che si coagula Il sangue dei donatori Lui dice Ho pescato dal web Ma morirebbero Ma morirebbero Quelli che donano il sangue Io ho fatto 40 donazioni di sangue A differenza vostra Io ho fatto 40 donazioni di sangue Mio papà Tu hai definito un'analfabeta Mio papà Quell'analfabeta Secondo te Quell'analfabeta Secondo te Di mio papà Non c'entra nulla Non c'entra nulla Non c'entra nulla Non c'entra nulla Benissimo Lo metto Lo metto su Instagram Lo metto su Instagram La tua tessera aggiornata Lo metto su Instagram No nuova Non nuova Non quella che ti farei stasera Ce l'ho a casa 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 Ce l'ha su Instagram Comunque ragazzi Questo era Montesano Finiamo con Spatalino No io sono idiota Però dono il sangue coglione Tu doni il sangue Tu doni il sangue Ma quale sangue Allora Spatalino Continua Nella sua crociata Contro l'Islam Che tratta male Si farebbe pagare anche il sangue Quello là Spatalino Ma c'è Ma c'è Abbiamo paura dell'Islam Chi non lo dice È un falso Un fariseo Barano Col gioco delle tre carte Hanno tutto l'interesse A non lanciare messaggi Che possano In qualche maniera Alimentare l'attenzione Ma noi abbiamo il compito Di allertare I nostri telespettatori Credetemi L'Islam Distruggerà l'Europa Grazie al suo ventre molle Gli islamici ci comanderanno Sì però ragazzi Non ha il ritmo di donato Quando si scagliava contro l'Islam Donato è un'altra cosa Diciamo la verità Spatalino è un donato Un donato minore Cioè un donato È il secondino di donato È il Il No Chi è Il secondo di donato Al limite Il secondino è un'altra cosa Lo sgherro Il porta borse di donato Lo scherano Lo scherano Cioè donato contro l'Islam È un altro livello Vai Ci sono intere zone Di città Europee In mano Agli islamici Ci comanderanno E non so se ci sarà Un'altra battaglia di Lepanto Non lo so Già una volta abbiamo evitato Il disastro islamico La storia si ripete Ma si ripete o non si ripete Allora che cazzo Prima dice che non ci sarà Un'altra battaglia Senti questo Arrivano sempre giovani In forma da noi Ancora Purtroppo l'Italia Da tempo È diventata Terra di conquista Continuano ad arrivare Falsi migranti E questo è vero Ma arrivassero vecchi Malandati Ma perché dovrebbero arrivare vecchi Voi se vedete le foto Di questi giannizzeri Sono tutti O minorenni 18-20 anni Forti Certo Vengono a sfamarsi in Italia Hanno capito Che l'Italia Permette loro Cose Che nei loro paesi Non farebbero mai In amore Chi lo sa Chi lo sa Non mi mettere in dubbio Io ripeto Sto parlando Della questione Dell'inginocchiarsi Per esempio Mentre non mi inginocchierei mai Davanti a Gottardo E lui non si inginocchierebbe mai Davanti a me E chi lo sa E mai dire mai Non credo E magari scopri che ti piace Io mi inginocchio Solamente Perché odio queste cose qua Fatte proprio Che tutti devono fare per forza Se no sei razzista Se non ti inginocchi Sei razzista Io mi inginocchio Solo di fronte Di fronte Alla Femme Alla Femme Fontaine Là mi inginocchio Di fronte Lo dico alla francese Questo sembra più nobile Sembra più Non sembra volgare Mi inginocchio Solo di fronte A una Femme Fontaine Deve essere alta però Deve essere alta Basta mettersi un po' giù Che può anche non essere alta Grande scontro tra Cacciari e la Gruber Tra Cacciari e la Gruber Perché a un certo punto Cacciari Cacciari Davide si inginocchia Damati alla Gruber per esempio Essendo nel bidello praticamente A un certo punto Cacciari A un certo punto Cacciari Non vuole rispondere alla Gruber Che le chiede del vaccino Non capisco perché uno Deba per forza dichiarare Assurdo Di essere vaccinato No Assurdo Ma che siamo Nella Repubblica Nella Repubblica Assurdo la risposta di Cacciari Perché assurdo Assurdo Perché la domanda È più che mai legittima Anzi Sono cazzi suoi Anche io voglio chiedere a tutti Sono cazzi suoi È un fatto Sono cazzi suoi È un fatto politico Ma che fatto politico La vaccinazione è un fatto politico Cacciari Non ha nessun ruolo È un fatto politico Non ha nessun ruolo È una domanda Che faccio sempre anch'io Sbagliato Lo puoi utilizzare come argomento No È una domanda Che faccio sempre anch'io È un fatto pubblico Ma non è un fatto pubblico Sono cazzi miei Porca la gran puttana Certo che è un fatto pubblico Perché è un fatto di salute pubblica Ma non diciamo puttana Certo che sì Tant'è che esibire il certificato vaccinale Cosa che io mi sono portato dietro Ovviamente È una cosa che in alcuni Io per entrare qui in azienda Ad esempio oggi Ho comunicato Che avevo fatto il vaccino Che l'avevo fatto più di 15 giorni fa Posso essere contrario a sta pollina? Quindi per entrare qua dentro Portando la mascherina Posso essere contrario? Ho dimostrato Per il rispetto tuo E dei dipendenti Che qua ci sono E dei dipendenti Che se tu sei Lascia passare stronzi Dei dipendenti Per rispetto Dei dipendenti Che qua lavorano Io mi sono fatto il vaccino E per rispetto Delle persone Che qua lavorano L'ho detto Se ti facevi il tampone Era uguale L'ho detto Aspetta Ecco Finalmente Finalmente A un certo momento Cesseremo Quando saremo tutti vaccinati Finalmente Cominceremo a ragionare Di come risanare Questo paese Insomma Ma è vaccinato lei Professore Sì Perché è chiaro Che dobbiamo essere vaccinati Per poter fare Una ricostruzione Questi sono fatti miei Questi sono fatti miei Ah no Non pensavo di Entrare troppo Nell'intimo No Basta 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 No no Basta Allora Parliamo di altro Grande Un grande Ma basta cosa Scusa Basta cosa Un grandissimo Basta Un grandissimo Una domanda che si fa A chiunque Chiunque abbia anche Un ruolo pubblico Chiunque ha un ruolo pubblico Ovviamente non al coglione Che chiama qui Fulvio da Torino Ma chiunque abbia un ruolo pubblico Glielo si chiede Mi sembra normale Fulvio da Torino Vai Sì Ciao Cucciani Mi senti? Dimmi dimmi Fulvio dimmi Senti guarda Intanto Burioni Aspetta un attimo Scusami Intanto Burioni Risponde a Montesano Dicendo che a ottobre Ce lo ritroviamo In ospedale Insieme a Gianni Rivera Spese nostre Ora io dico Va bene tutto ragazzi Va bene Va bene Hai visto Bassetti Cosa ho detto oggi? Non mi interessa Hai visto Bassetti? Gli attira Ma questo Dice una cosa di questo tipo Cioè Che semplicemente Perché semplicemente Tu esprimi la tua opinione Su vaccino E hai la libertà Di scegliere se vaccinarsi Sì Ma questi sono gli anziani Che poi ti ritrovi Devi essere additato Come è possibile Malato Come è possibile Come dire no Ospite delle terapie intensive Peso per la società Sì Questo perché oggi È pericolosissima Siccome hai una percentuale Molto elevata Di sessantenni Non ancora vaccinati No ma vedi David Ma vedi Stai indietro La tua coglione Siccome tu hai Una bella percentuale Perché sei un coglione Perché coglione Perché sei un coglione Dai dai Adesso ti dimostro Che non sono un coglione No ma non è possibile Sei un coglione Hai nostri figli Per scuola Ai nostri figli A scuola Daranno il compito In classe Montessano Rimane ricoverato Di covid Per 12 giorni Costa 2000 euro In terapia intensiva Il professor Burioni Domanderà Quanto ci è costato Il ricovero Di Burioni Di Montessano Perché sarà così La storia L'abbiamo già vista Guarda che qui È molto pericoloso Dire questo è un peso Per la società Questo è un peso Per la società Oppure no Non mi sembra di dire Una coglione Dopodiché Tu non attaccherai mai Burioni Perché è potente Non lo attaccherai mai Anzi lo inviterai A in onda Gli dirà Oh professor Burioni Ha ragione Professor Burioni Calma la tua invidia Un attimo Signor Burioni Calma la tua invidia Mi dia un'altra Due colpi Sulla natica Signor Burioni Calma C'è una buona percentuale Di sessantenni Non vaccinare E quindi ci si rivolge A quelli Ma che vuol dire Siccome la priorità È vaccinare Di ultra sessantenni Ma che vuol dire E mi risulta Che il signor Montessano Abbia più di sessantenni E allora Se non ci vuole vaccinare Che devi fare E se non ci vuole vaccinare Che fai Lo costringti È evidente Che Burioni Bassetti Lo additi Di fronte Con un povero mostro Con un povero coglione Con un povero coglione Sicuro Ma pensa a Bassetti Cosa ha detto Il nostro amico Bassetti Il tuo amico Bassetti E fai male Perché Bassetti È una persona molto autorevole E ha detto Che i ultra sessantenni Non vaccinati A ottobre Ce li ritroveremo Ma saranno cazzi loro o no E no Sono cazzi loro o no E se uno non ci vuole vaccinare Che fai Lo trascini L'obbligi Che fai L'obbligi È un problema Diventerà un problema Anche tuo E anche mio Perché richiudi Il paese Perché richiudi Il paese Che lo metta un obbligatorio Che lo metta un obbligatorio Se hanno i coglioni Allora Se ha un problema Scusa Scimietta addestrata Scimietta addestrata Scusami Fulvio da Torino Dai giù 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 È una scimietta addestrata Nano da circo Scimietta di merda Giù ragazzi Tutte e due Dai Fulvio da Torino Ma senti Ma perché mio Ma perché sei una scimietta di merda Addestrata Addestrata Scimietta di merda Dai forza Fulvio dimmi Niente Allora Io sono quasi sempre contrario A quello che dice Pareto Esatto Bellissimo In questo caso In questo caso Non posso che dargli ragione Perché Parliamoci chiaro Il 90% di gente Che ascolta la zanzara Come me Ascolta per sentire Comunque per ridere Per sentire Vabbè Allora questo cosa vuol dire Scusami No Questo vuol dire Che finché telefonano Quegli ignoranti Che dicono Che nel vaccino Ti mettono Le microchip Il 5G Sì Sì Va bene Tutto Mi fa ridere Tutto Però qua Uno come Montesano Che sicuramente È una persona Di cultura Insomma Di un certo spessore Ma guarda È da tempo Che Montesano Ma è da tempo Che Montesano Prende queste posizioni Eh Sì Quello lo so Però Un'altra milita Le PDS Capisci che Però quello che dice L'amico dell'amico Ho sentito Ma sì ma Ho capito Ma ragazzi Ma uno Voglio dire Perché deve essere Per questo Scusate Certamente C'è un discorso Razionale Non ci sono fonti Non c'è niente L'AVI Si smentisce Il sangue Dei vaccinati Non si coagula Quello è sicuro Al 100% Se no morirebbero Il problema è questo Perché uno Non ha il diritto Perché uno Non ha il diritto Come Montesano A dire A riportare Una cosa Che circola Sti cazzi Ma chi se ne frega Perché date così importanza A quello che dice Montesano Perché deve essere preso Perché purtroppo Qualcuno lo ascolta Perché deve essere messo Al pubblico ludibrio Perché purtroppo Perché uno è conosciuto Ma qualcuno Potrebbe ascoltarlo Ma c'è la libertà Di cazzeggiare Certo ma c'è anche La responsabilità Di qualche giugno Dimmi No dicevo Anche il discorso Siamo diventati Tutti responsabili Adesso dai No Ma se sei Un ruolo pubblico Io sono un imprenditore E abbiamo visto Che aprire e chiudere Non serve un cazzo Perché tanto poi Il codice Vabbè allora 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 Se non ci vacciniamo tutti Esatto Potrà avere dei dubbi Su vaccino Oppure devi essere Considerato un pazzo Se hai dubbi su vaccino Porca la gran puttana Ma vogliamo Tenere aperto tutto o no Io sì Guardi ti dico solo una cosa Io quest'inverno Siccome lavoro Tra virgolette Nel turismo Anche se in via indiretta Io ho perso Il 90% del fatturato Perché in valle da ossa Vabbè ma allora Che vuoi dire con questo Che vuoi dire Allora voglio dire Se non ci vacciniamo Io un altro inverno Non lo supero Vabbè Fermola ho capito Ho capito L'economia Ti parla di economia Ti parla Fermola Non di salute Ti parla di economia